Buon pomeriggio a tutti fedeli amici della pagina Anima Nera Azzurra. Oggi dobbiamo commentare le dichiarazioni di Marotta, perché ricordiamocelo, Marotta ieri ha parlato alla Gazzetta dello Sport e ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti che non possiamo non commentare. Detto questo, ci tengo a ribadire questa piccola cosa. Oggi io non sono a Milano, ho deciso di fermarmi qui a Godiasco per due giorni, domani sera ritornerò a Milano e poi tornerò a commentare, a far pubblicare video editoriali direttamente dal mio studio. Detto questo però vi consiglio di venire a Godiasco perché è un piccolo posto spettacolare, qui davanti a me c'è una visuale semplicemente splendida. Detto questo, se dobbiamo commentare le parole di Marotta, ripeto, Marotta ieri ha rilasciato delle dichiarazioni importanti. Numero uno ha chiarito un dubbio fondamentale. Ha detto che l'obiettivo dell'Inter non è vendere i BIC. Mettiamocelo in testa. Poi, detto questo, se a giugno dovesse presentarsi un pazzo con un'offerta da 120 milioni per Lautaro Martinez, naturalmente non puoi rimanere indifferente, come non può rimanere indifferente nessun altro club. Però, mentre l'anno scorso c'era l'obbligo di vendere un giocatore per rimettere a posto le cose, quest'anno quest'obbligo non ci sarà più, perché quest'anno, ricordiamocelo, il pubblico tornerà negli stadi, anzi, è già tornato e gli stadi verranno riempiti al 100% tra qualche settimana. Poi, oltretutto, l'Inter ha già firmato dei nuovi contratti di sponsorizzazione che porteranno nuovi soldi. Hai già fatto due grosse plusvalenze quest'estate vendendo a Kimi e Lukaku. Potresti vendere un big solo davanti a un'offerta clamorosa, ovvio, però, ripeto, non c'è più l'obbligo di vendere un giocatore nei primi giorni di luglio. L'anno scorso c'era, infatti, hai dovuto vendere a Kimi. Quest'anno puoi vendere i giocatori solo però davanti a delle offerte clamorose. Marotta ha detto che l'obbligo non è vendere dei big. Noi, i nostri big, ce li vogliamo tenere tutti. Tutti detto questo sarà difficile perché, naturalmente, giocatori come Lautaro, Bastoni, Barella, Skriniar hanno un grande mercato. Noi, per fortuna, però, stiamo lavorando per rinnovargli i contratti. L'ha detto Marotta. Marotta ha detto che vuole tenere Lautaro Martinez che ha praticamente raggiunto l'accordo con il suo procuratore. Numero uno. Numero due ha detto che tra dieci giorni l'Inter parlerà pure con l'entourage di Brozovic per rinnovare il contratto. E in più ha pure detto che l'Inter vuole rinnovare anche il contratto a Barella e vuole proporgli un aumento. Un aumento giustissimo perché Barella guadagna due milioni e mezzo. Eppure è stato inserito nella lista per i dei possibili vincitori del pallone d'oro. Poi non ha neanche l'1% di possibilità di vincere. Questo pallone d'oro naturalmente lo daranno a Messi. Però detto questo vuol dire che quando un giocatore viene inserito nella lista dei candidati al pallone d'oro non può guadagnare due milioni e mezzo. Deve guadagnare di più. Marotta l'ha detto ieri. Ha detto pure che potrebbe diventare lui il nuovo capitano dell'Inter. Sarebbe una cosa buona e giusta perché Barella ha tutti i requisiti necessari per diventare il capitano dell'Inter. Deve controllare meglio le sue reazioni sul campo. Però può solo crescere e migliorare. Detto questo io voglio poi parlare a molti interisti che un po' per la nostra situazione finanziaria e un po' perché continuano a leggere dei 200 articoli al giorno a volte si fanno prendere dal panico. Ragazzi cerchiamo di fidarci delle persone giuste. Numero uno fidiamoci di Marotta perché Marotta in questi anni ha dimostrato di essere il più grande dirigente italiano e questo non è un dettaglio. Numero uno. Numero due. Prima di sparare sentenze o prima di dare ragione a dei giornali che dicono l'Inter ha bisogno di 100 milioni, l'Inter ha bisogno di vendere. Cerchiamo di ragionare. Io personalmente tra la Gazzetta dello Sport e il Sole 24 Ore, se devo fidarmi di qualcuno su materie economiche, io preferisco fidarmi del Sole 24 Ore perché il Sole 24 Ore è un giornale economico. La Gazzetta dello Sport è un giornale sportivo. Quindi io, se devo leggere un articolo di tipo economico, preferisco fidarmi del Sole 24 Ore. Fidiamoci numero uno di Marotta e poi fidiamoci di esperti del settore. Non fidiamoci degli azzecca garbugli, di quelli che fanno i maghi indovini che dicono l'Inter ha bisogno di vendere, l'Inter è obbligata, l'Inter di qua, l'Inter di là. Numero uno. Parlare di queste cose a ottobre, secondo me, è semplicemente ridicolo perché non sappiamo cosa accadrà, non sappiamo se passeremo il turno in Champions, non sappiamo quanti soldi ci porteranno le nuove sponsorizzazioni, non sappiamo in che posizione l'Inter soprattutto finirà questa nuova stagione. Quindi parlare già di cessioni, non cessioni, è ridicolo perché manca una vita intera alla fine di questa stagione. Poi a giugno potremo porci questo problema, ma io dico sempre questa cosa, fidiamoci delle persone giuste, fidiamoci di Marotta e fidiamoci soprattutto di esperti del settore, perché io personalmente tra la Gazzetta dello Sport e Marco Bellinazzo, se devo leggere un articolo sui bilanci dell'Inter, preferisco fidarmi di più di Bellinazzo, perché Bellinazzo è un esperto del settore, è uno che lavora al Sole 24 Ore, che è il primo giornale italiano di Economia e Finanza. La Gazzetta dello Sport avrà anche dei bravi giornalisti in grado di parlare di calcio, dei giornalisti competenti di calcio giocato, su questo non c'è alcun dubbio, però non è un giornale di economisti la Gazzetta dello Sport. Quindi io mi fido di Marco Bellinazzo, che poi ha detto le stesse cose che ha detto Marotta. L'Inter non ha l'obbligo di vendere un big nei primi giorni di giugno, poi può vendere un big sicuramente, ma deve arrivare un pazzo con un'offerta clamorosa per un nostro nuovo giocatore importante. Lì puoi ragionare, puoi decidere se vendere o non vendere, ma se non arriva nessuna offerta ufficiale, l'Inter i suoi big non li regala, questo vi deve entrare in testa. Non cadete nella trappola di molte persone che vogliono far passare questo messaggio che l'Inter a giugno farà come i venditori di cocco in spiaggia, cioè che andrà a proporre i suoi migliori giocatori a destra e sinistra. Non è così. L'Inter non ha nessun obbligo di vendere un pezzo da 90. Può venderlo solo davanti a un'offerta incredibile. Ovvio, se dovesse arrivare il Paris Saint-Germain o il Manchester City con 120 milioni per Lautaro Martinez, puoi farti due domande, ma non hai l'obbligo di venderlo. L'anno scorso avevi l'obbligo di vendere a Kimi, quest'anno non ce l'hai più. Vi è entrato in testa? Poi, detto questo, ragazzi, cerchiamo di rimanere equilibrati e soprattutto non credete a tutto, perché in questo momento dell'anno, in questo momento specifico dove in più il campionato è bloccato, a molte persone fa piacere fare clic e quindi sono pronti a marciare su qualsiasi anche piccolo problema dell'Inter. Questo non vuol dire che la situazione dell'Inter è bella e florida. L'Inter sta vivendo una situazione difficile dal punto di vista economico, però quando c'è una situazione difficile bisogna informarsi fino in fondo e l'informazione migliore su questi campi te la danno le persone del settore e la gazzetta dello sport non è un giornale economico, è un giornale sportivo. Io preferisco fidarmi di giornali che parlano di economia se devo farmi un'opinione sui bilanci dell'Inter o sulla situazione economica dell'Inter. Quindi cerchiamo di dividere un po' le fonti. Poi se devo leggere, se voglio farmi un'opinione sul calciomercato ovviamente preferisco leggere la gazzetta dello sport, non il solo le 24 ore, perché solo le 24 ore si occupa principalmente di economia e finanza. Però Marotta ieri penso che abbia chiarito molti dubbi. Ha secondo me, lui secondo me ha il desiderio di avere sempre più potere all'interno della società e quindi spera che Suning possa fare le valigie e andare via. Io penso che secondo me è qualcosa in pentola bolle. Nel senso che magari PIF ha mostrato solo un lieve interesse ma secondo me ci sono altri fondi pronti a intervenire, pronti a dialogare con Suning. Non lo so come finirà. Sta di fatto che io penso che l'Inter abbia bisogno di una proprietà presente e soprattutto in grado di garantire. Questi cinesi, bisogna dirlo, non sono in grado di garantire. Pure se dobbiamo dare un giudizio completo su Suning, Suning ha fatto anche tante cose buone per l'Inter perché in pochi anni ci ha riportato a vincere, ci ha impiegato molti anni in meno di Moratti a vincere perché Moratti ci ha impiegato il doppio degli anni, sia il padre che il figlio. Loro ci hanno impiegato 3-4 anni, quindi hanno avuto meriti e colpe. Però speriamo che la squadra e la rosa possa rimanere competitiva. Sono veramente contento per Barella e Lautaro che sono stati inseriti nella lista al pallone d'oro. Avere due giocatori così in rosa è come avere due belle fidanzate. Cioè, è bello, ti fa piacere che tutti le facciano i complimenti, però le devi anche far sentire felici. E l'Inter sta lavorando a questo. Questo è giusto dire. Non fare della demagogia gratuita o fare del terrorismo perché molte pagine, poi non tanti giornalisti tifosi che condividono queste cose, che buttano benzina sul fuoco. Fanno del terrorismo mediatico, non i giornalisti. Tifosi che continuano a postare e dire oddio, venderemo questo, venderemo Barella, Lautaro, eccetera, eccetera. Do questo consiglio a loro. Fate meglio, informatevi fino in fondo, non informatevi a metà. Sia Bellinazzo che Marotta hanno detto le stesse cose. Quindi calma, prima di risparare pensate, amala, forza Inter. Sempre e comunque, evviva Beppe Marotta.